buonasera ragazzi ritorno dopo lungo tempo con questo video come vedete sto giocando subnautica inutile dirvi che sono già in uno stato abbastanza avanzato del gioco circa 20 ore circa 20 ore qua vedete la mia basettina avanzata ancora piccola per adesso ci devo lavorare devo trovare altri componenti molto utili ma questo video non parlerà di come fare la base di come sopravvivere quant'altro bensì intendo esplorare l'aurora come equipaggiamento consigliato io mi sono vabbè ovviamente tuta antiradiazioni per forza sono non vivrete da dentro neanche a pregare un po d'acqua dei medikit non ho cibo spero di non fare una cazzata ma con il coltello con la lama termica posso cucinare i pesci su direttamente quindi magari qualche batteria di di scorta vabbè ovviamente tolcia scanner costruttore di habitat potremmo lasciarlo giù un radio a faro non si sa mai magari per segnare l'ingresso qualche estintore perché l'aurora sta andando a fuoco strumento riparazioni non si sa mai e la taglierina sicuramente per aprire le porte un cannone a repulsione per difendersi e un sea glide non lo so magari c'è qualche parte sottomarina non si sa mai che ci serve a muoversi velocemente questa è la Nabucodonosor il mio mega piccolissima sottomarina e niente mi sposto mi sposto verso il nostro obiettivo eccoci qua siamo tornati nel nostro tentativo di entrare nell'aurora esplorarla anche smigola adesso è dei nostri non volevo mandarlo via però vabbè visto che si è tolto approfittiamone per giocare più comodamente prima è successa una brutta cosa e lo ammetto ho ricaricato la partita domanda è cosa sto colpendo un altro muro invisibile oh si porca puttano un leviatano altro che un aaaah ci rimango secco ok voglio bene il mio al mio piccolo sottomarino non che unico sottomarino non che gatto smingol 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 levati non ci vedo dai levati 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 spostati che vedere dai spostati proviamo nuovamente entrare in questa enorme astronave non si sa mai che questo giro ci si riesca cerchiamo di togliere smingol da davanti al monitor però vieni dai vieni vieni bravo non schiacciare tasti eh ciao fai vedere la tua parte migliore eh calla che schiacci i tasti scendi dalla testina scendi dai 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 culone non posso giocare con te in braccio su ah uovo uovo ho appena visto un bellissimo un bellissimo alert dovete sapere che nella mia base avanzata ho fatto un contenimento per alieni e ci ho buttato dentro delle uova per vedere che cavolo saltava fuori questo potrebbe vabbè guarda un po' qua 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 che a sto giro forse ci siamo ci sono anche i mostri quindi uh vediamo un po' se oh 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 guarda un po' cosa ho trovato qua signori finalmente l'ingresso dell'aurora ecco qua c'è già una parte sottomarina pdf tutti questi contenuti li leggerò in separata sede oh fantastico un codice ovviamente non ce l'abbiamo infatti passiamo per questa porta da tagliare primo lotto una batteria grazie questo ok ho proprio già la scatola nera dell'aurora fantastico allora vediamo di andare in un posto dove possiamo respirare anche se non non pare una buona idea ok andiamo ad andare qua sotto oh facciamo le cose complesse qua potrebbe essere una buona idea usare il sea glide per muoversi più velocemente perché se queste parti sottomarine fossero lunghe spero vivamente di no però ok eccoci qua vediamo un po' fili danneggiati allora tac cosa troveremo di robusta? fantastica porta spogliatorio apprezzo tantissimo che il gioco comunque sia stato tradotto anche in italiano un gioco che credo sia rimasto molto in reaccess questo questi ragazzi sono assolutamente da scansionare ce n'è un altro lì e devo provarci a tutti i posti perfetto questo credo sia la cosa più sgrava del gioco e spero di riuscire ad averelo il prima possibile che in acqua ce ne sia un altro pezzo un estintore prendiamolo perché ho visto che finiscono abbastanza di corsa tendenzialmente direi che dovremmo passare dalla parte di là ma qua così c'è una muta prona non vedo l'ora di avere quel bestiglione oh oh adesso lo avrò scusate questa mia eccitazione molto mascolina oh non credevo di aver già così tanti pezzi da poterla completare sinceramente qua ce n'è un'altra tra l'altro ma scansionarla adesso significherebbe riempirci solo l'equipaggiamento del titanio che ci viene dato allora riformimenti queste sono cose da prendere soprattutto perché soprattutto la barretta visto che non mi sono portato cibo non c'è altro cosa ho visto? ha visto qualcosa da scansionare ma non so che cosa il tavolino del bar ecco una cosa che forse trovo un po' minosa di questo gioco è il dover continuare a gestire l'equipaggiamento apri me apri me apri me quindi sarebbe bello avere almeno dieci tasti rapidi ecco non solo cinque detto proprio sinceramente allora vediamo se c'è qualche pd a che leggeremo in altra sede al piano singolo da parete come potete vedere scansionando gli oggetti che trovo in giro riesco poi a duplicarli molti molti di questi che vedete in questa stanza li ho già e di conseguenza non mi li fa scansionare l'estintore alcolici vari mancone ecco questa è una cosa fondamentale ragazzi il poster col gattino è bellissimo ecco inizia ad essere complessa la storia allora cabina 1 codice fregati cabina 3 mi sa che usciti da qua dentro avremo la possibilità di fare la nostra base anche sulla terraferma sono la cosa più importante qua credo che mi farò male e invece no ma pensa allora questa cabina sigillata gli alloggi del capitano hanno un codice quindi ci attacchiamo la cabina 1 ha un codice ci attacchiamo sarebbe meglio forse se leggessi i pd a però perchè molto probabilmente i codici potrebbero essere lì qui prendiamo invece tutti i poster spero di trovarne altri perchè con questo andazzo non dureranno molto perchè entra in una stanza solo per trovare una batteria un opuscolo almeno questi la cosa positiva è che troviamo un sacco d'acqua un sacco di barrette queste borse invece sono tutte vuote vieni qua però natural selection 2 ce l'ho già bene ragazzi abbiamo già l'inventario pieno a posto ci mangiamo una barretta ci siamo bevuti un'acqua è che ho trovato veramente un botto di batterie che però fanno sempre comodo qui e poi mi incassa sotto ok qua e poi mi incassa sotto quanto che trovo inizieremo a buttare via batterie da quello che ne trovo Oh Gesù, questa porta non è fruibile, trovo veramente un sacco di batterie, viene in cabina 1, il codice 1869, perfetto, direi di andarci subito così da ricordarselo perché non so perché ma non mi sta andando giù l'ossigeno in questo punto della nave, ne approfitto taglio già qua, che vita difficile quella dell'esploratore, adesso è iniziato a andare probabilmente sono al pelo con la bolla d'ossigeno, eh sì, sono fatti. Fantastico, acqua, un kit, una borsa vuota, ragazzi non so cosa sia ma lo prendo, vi ho fatto anche un bellissimo screenshot, diventeremo presto dei collezionisti mi sa, letto matrimoniale classico, roba la segnalia, è un bel rettino tutto ciò lo leggerò in seguito, abbiamo anche già quelli dell'alloggi del capitano che io non ho, non mi sono neanche mai reso conto di avere una sezione codici all'interno del mio PDA. questo è un domicilio, è un'ottima, sono un'ottima, è un'ottima. È plausibile che una delle due porte all'inizio che io abbia il 12 E il codice è 6483 Proviamo Eccolo Io non ho idea di che cosa serva tutta questa roba Ma per ora la prendo La porta l'avevamo già tagliata quindi possiamo andare tranquilli Oppa Camera del lettore Bene Cosa sta succedendo Quel pesce mi ha spostato Oddio Che cos'è quello schifio Sono pronto a spiattellare qualsiasi forma di vita mi si avvicini Eccolo Eccolo veramente un sacco d'acqua Qua non ci vuole la tagliarina ma ci vuole la giusta di tutto Il reattore sarà la parte più problematica quindi tendo prima ad andare dall'altra parte Allora Allora questo Il gioco è veramente ricco di storia Cioè Grazie a tutti questi PDA e quant'altro Pian pianino Andando avanti Scoprendo cose Si immagina E si capisce Quello che è successo Benvenuti nella sala reattore Sì Dai dai c'era Falla Ebbè Mi sembrava giusto Speravo Giuro Speravo che fosse Il reattore nucleare La formula del reattore nucleare E' tutto qui Cioè Maledetta sanguisuga schifida Maledetta sanguisuga schifida Maledetta sanguisuga schifida Oh 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 Era più semplice del previsto Il nostro giro dell'aurora non è terminato Oh Oh Ignorate questo messaggino da parte di uno dei miei habitat che non si sa perché è andato offline Ok Ok Quello Etipo Exit Video Aurora systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data Che cos'è? Ah Alcana una propulsione lo abbiamo già Ah Amministrazione Bene bene Vedi che abbiamo trovato un sacco di altro aroma Ok Mi sa che le camere di compensazione non hanno fatto una bella fine Mi sa proprio no Sono nelle fottute pareti Ok E amministrazione sia ragazzi Vano di carico Vano di carico 1454 Non credo di averlo trovato questo Non credo di averlo trovato questo A tutti gli effetti credo di aver terminato Eh Guarda qua Un vano di carico Quel codice era C'ha sopra il vano di carico Che ci fosse una volta una porta Che ci sia una porta che io non ho visto Ah guardatelo qua Niente signori Direi che Sto giro l'abbiamo terminata davvero Me ne torno alla mia base Ricco di contenuti E pronto A costruirmi Una fantastica muta Prowl Vi lascerò con questo tuffo Da Tomb Raider Gneeeeee Aaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaaa Grazie di avermi seguito spero che la guida vi sia utile come avete visto non è niente di tremendo si riesce quasi a fare tutto direttamente con l'equipaggiamento trovato direttamente in loco grazie mille buonanotte ciao a tutti ciao a tutti